Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Nuclei di aria piuttosto fresca proveniente dal nord Europa ci hanno già interessato nelle scorse ore portando diffusa instabilità sul nostro territorio con accompagnato un deciso calo delle temperature, una rinfrescata che si è propagata fin verso la pianura. Ecco nelle prossime ore soprattutto nella giornata di domenica saremo sempre in balia di queste correnti fresche instabile che porteranno qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio di domenica con qualche isolato più vasco più probabile in montagna. Temperature che si manterranno sempre decisamente sotto la media del periodo con un clima gradevole ma anche un po' fresco al primo mattino soprattutto in montagna. Cosa accadrà invece durante la settimana prossima? Ecco avremo un inizio di settimana caratterizzato ancora da della variabilità con però una graduale attenuazione della nuvolosità e anche una ripresa delle temperature che si riporteranno nella media del periodo. Giovedì poi saremo interessati da una nuova linea di instabilità che porterà qua e là qualche isolato più vasco. Quindi diciamo che a medio termine non vediamo alcuna ondata di calore e rischeremo sempre con temperature decisamente gradevoli. Andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede un inizio di giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con già qualche però locale addensamento sui nostri rilievi orobici più esposti al flusso instabile. Nel corso del pomeriggio avremo nubi che tenderanno ad aumentare un po' su tutti i settori e non escludiamo la possibilità di qualche isolato piovasco in prossimità delle nostre montagne e localmente questi rovesci potranno in serata raggiungere la medio valle seriana e il basso sebino. Difficilmente questi piovaschi raggiungeranno invece la pianura. Ecco invece cosa accadrà durante la settimana. Lunedì avremo un cielo variabile con nubi alternate a schiarite e ancora una volta la probabilità di isolati piovaschi sul nostro territorio qua è la macchia di leopardo. Temperature intorno ai 16 gradi di minima e massime che non supereranno i 23-24 gradi sull'alto piano di Clusone con punte di 25-26 gradi nella zona del lago di Iseo e nella città di Bergamo. Martedì tempo che lentamente guarisce sul nostro territorio. L'anticiclone lievemente si sposta sul nostro territorio, aumenta i suoi valori pressori determinando una maggiore stabilità atmosferica nella giornata di martedì anche se ancora non è possibile escludere ma solo in montagna qualche piovasco pomeridiano. Mercoledì invece sarà una giornata in compagnia del cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso con temperature che aumenteranno di un paio di gradi portandosi a Clusone intorno ai 26-27 gradi e uno zero termico in rialzo oltre ai 4000 metri di altitudine. Giovedì ho indicato una nuova instabilizzazione dell'atmosfera infatti arriveranno delle correnti più fresche ancora dei quadranti nord orientali che determineranno qua e là amacchio di leopardo qualche isolato piovasco un po' probabile un po' per l'intera giornata sul nostro territorio con maggior frequenza sempre nelle zone orograficamente più elevate del nostro territorio ma qua e là i piovaschi potranno bagnare anche le zone della Bergamasca e della pianura. Venerdì invece assisteremo a un graduale rialzo termico infatti saremo raggiunti da un anticiclone che ci terrà in compagnia per qualche giorno portando più stabilità atmosferica sul nostro territorio con temperature che aumenteranno di qualche grado però sempre comprese nella media climatica del periodo. E per il meteo tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.